benvenuti a tutti benvenuti a tutti sentite parlare in italiano video in italiano perché come ho detto quando ci sono soggetti nostri italici da adesso quindi da fine 2021 2022 inizio quando ci sono soggetti italiani è disponibile anche il video in italiano per quelli che seguono sia la mia pagina che il canale youtube io so di avere dalle analytics di youtube principalmente un pubblico straniero perché chiaramente facendo i video in inglese chi capisce un po quello che blattero in inglese sono gli stranieri e quindi diciamo che ho avuto un po di richieste di amici conoscenti appassionati che mi ha chiesto perché almeno delle cose italiane non fai qualche video in italiano ed eccomi qua sarebbe bello anche se per motivi di tempo non riesco a farlo con tutto un po farlo per tutte le cose che pubblico su youtube anche perché alcuni video li storie editando li storie mettendo assieme per problemi di copia bisogna cambiare le musiche tanti avevano musiche belle famose ma ho dovuto rifare perché sennò youtube di oscura e quindi niente vediamo vediamo come muoverci per adesso ripeto il nuovo trend è che quando c'è un soggetto in italiano un soggetto italiano come in questo caso il dino 206 s da montagna tendo a fare anche il video in italiano così magari può essere interessante anche per gli amici sentirmi in madrelingua quindi niente questo qui è stato uno dei primi kit che io ho prodotto nel lontano 2015 vedete che sotto c'era anche una firma una firma tipo flinston dino 206 sp l'avevo chiamata poi l'oggi t40 2015 il modello che io produssi nel 2015 ma che ha avuto una gestazione che almeno è partita dal 2012 almeno questo perché perché io sapevo che in giro esiste un modello della modelers di questa macchina qui che provai a cercare per mare per monte non trovai mai e alla fine ripiegai su una coppia fatta da uno scappato di casa da qualche parte in europa una coppia di bassissimo livello non tanto per la forma del kit che comunque era rispettata è un taccone è un taccone di resina quindi è difficile sbagliare su quel tipo di parte però la qualità della resina era stampata veramente malissimo non tanto dalla parte superiore che interessava a me quanto nella parte bassa era costellata di buchi di crateri di parti mancate le bandelle laterali ne mancavano la metà quindi era orrendo un kit originario sicuramente un clone quindi del modeler a parere mio che mi arrivò senza le ruote me li ha mandati in un secondo tempo per giunta sbagliate dopo le mostrerò nel video e però era l'unica cosa che assomigliavano la 206 s sentendo con gli appassionati è uno di quei kit che chi li ha o li vende a cifre folli gli originali cifre folli intendo dire 4 500 euro cifre del genere per modelli che comunque sono stati fatti nella prima metà degli anni 90 quindi senza il dettaglio dei modelli di macchinine che girano oggi quindi non avevano non avevano dettagli non avevano dettagli non soltanto dei modelli cosiddetti corbside quindi modelli chiusi che rappresentavano soltanto la forma e la silhouette del veicolo io nel caso di questa dino dato che appunto ha avuto una gestazione abbastanza lunga questo modello come vi ho fatto vedere del 2015 ma io sono andato avanti a lavorarci sopra fino al 2017 circa quindi oltre cinque anni di gestazione perché la volevo fare ed è stata la mia principale modifica al kit originario da cui è derivata la volevo fare con il motore a vista questo perché il kit originale essendo come abbiamo detto un sapone un taccone di quelli non indifferenti di resina aveva tutta la parte posteriore piena quindi se sollevate la parte della questa parte qui del cofano posteriore sotto è piatto ed è un macigno da un chilo e rotti di resina quindi cosa ho fatto ormandomi di santa pazienza e proxon dremel raiobi qualunque cosa itachi qualunque cosa qualunque cosa cominciato a trapanare tutto quello che potevo nella parte interna per ricavare il vano motore vano motore che tramite un po di foto trovate online sono riuscito a ricostruire e ho venduto in un secondo tempo come kit separato dal dino è stato un modello che ha avuto un grandissimo successo perché i modelli di questa macchina qui appunto in giro non ci sono quindi chi la vuole e sa che la faccio io perché può anche il farsi conoscere io su queste cose non pompo tantissimo perché tante volte sono più le rotture di coglioni di star dietro a spiegare a fare così non ne vale onestamente la pena per troppe cose quindi faccio poche copie di queste poche copie una parte la tengo sempre per me perché voglio avere una mia riserva di copie nel caso succeda qualcosa o agli stampi o che non trovo uno stampatore di livello buono per fortuna mia è sempre andata bene quindi le coppie che ci sono in giro della mia dino 206 in genere sono semplici ma stampate molto bene quindi difficile che non mi dica guarda sotto ci sono dei buchi mancano dei pezzi di stampa sotto no perché quelle cose lì o le tengo per me e poi ci lavoro ulteriormente oppure non le vendo io e sfido chiunque a dire il contrario quindi niente quando presi questa 206s il lavoro colossale è stato quello più che altro di svuotare completamente tutta tutto il vano motore e in un secondo tempo gli costruì anche disponibile anche lui come kit a parte il il vano motore con la trasmissione tipica del ferrari dino da montagna loro usavano un motore 6 cilindri a v con una trasmissione tipo transexual quindi non aveva la trasmissione non aveva la disposizione della dino stradale normale con il motore trasversale al motore longitudinale quindi la disposizione era differente la coppa dell'olio quindi cambiava e soprattutto tutto il blocco cambio tutta la trasmissione è completamente diversa quindi quella è stata ricostruita e quello che non ho potuto fare nel kit del motore perché la macchina vera è un uccellino ha fatto tipo è fatto tipo l'hubber cage dentro sta macchina qui quindi sono tutti i traliccetti di tubi ovviamente produrre in resina il traliccio di tubi non ha senso quindi io a chi compra i miei modelli fornisco sempre una cartella con oltre un migliaio di foto nel caso dei camion sono quasi 5.000 foto quindi un sacco di documentazione specifica su questo mezzo quindi ognuno si può fare la propria idea di del livello di dettaglio che vuole fare di come dettagliare alcune parti che per forza di cose sarebbe stato assolutamente inutile cercare di produrre in resina se parliamo di frame che sono da mezzo millimetro in scala 1 a 24 immaginate di cosa si stampa non sono in grado perlomeno la mia la mia organizzazione non è in grado di stamparle in resina a una qualità accettabile ci avevo provato ma non veniva forse oggi col 3d una cosa fattibile per quanto se non so se l'ho già pubblicato rispetto a quanto state vedendo questo video se vedete il video della porsche 910 fatta dal chris mezzo mix model ecco lui i frame li ha fatti sono di una sono dei cristalli quindi maneggiare uno spaghetto secco ha più solidità che non maneggiare una cosa stampata in 3d quindi io per adesso preferisco dire dovete fare il frame del motore guardate le fotografie tanto abbastanza semplice da fare sono due tralicci con due ordinate copiate dalle fotografie e lo fate con un evergreen e sono i codici dei tondini adesso non mi ricordo se il 222 221 comunque quelli piccolini che fa evergreen rotondi una bustina costi 5 euro ci fate tutto il telaio della macchina con una bustina il kit si compone che qui lo vedete nelle nelle immagini del video montato così perché il mock up a me serve per avere sempre le proporzioni per vedere se l'altezza da terra è giusta se le proporzioni sono comunque rispettate rispetto alle fotografie nel kit nel kit ovviamente trovate anche le parti trasparenti che sono stampati in vacuform vacuform per il quale mi aiuto al mitico robbie è un amico che mi fece il favore di stampare in maniera professionale e quindi canopy sono un pezzo di vacuform che chiaramente si taglia a sagoma rispetto al frame quindi bisogna fare la prova secco e lo trovate all'interno della confezione così come pure c'è nella nella confezione trovate le coperture dei fari sono leggermente inclinati nulla toglie che la parte frontale del muso essendo molto semplice si può anche ricreare con dell'acetato più bello se lo trovate in giro perché non è difficile da fare come pure si può fare anche la modifica mi sembra che qualcuno l'abbia fatti in giro mi sembrava non so se paoloni di di più qualcuno comunque si può fare anche la modifica per fare il dino quello con anziché il doppio fanale tipo p4 come riprodotta qui si può fare anche quella con il solo fanale basso e che c'è in tantissime fotografie quella che aveva soltanto due fanali invece invece che quattro che è forse anche più bella come versione più particolare però diciamo che io al tempo avevo fatta così per qui questo essendo il master per le copie lo sto un po ripulendo in questi giorni perché passati comunque 5 6 anni un po una sistemata bisogna dargliela gli ho aggiunto i fori delle prese d'aria che piccolini in alcune foto si vedono da fare sono una stupidata cioè prendete una fresa voi da un millimetro fate il buco con l'invito poi lo allargate con la lima è un lavoro di un secondo anche perché questo a differenza del modeler giapponese non finisce nel macigno di resina ma finisce subito dopo qui subito dopo il passaruota c'è lo scasso e c'è il vano motore aperto quindi è una presa d'aria che da bucare un lavoro di un minuto le ruote sono anche loro di resina all'interno della confezione all'interno della confezione io avevo messo anche i gallettoni di diversa foggia adesso piacerebbe trovarli questi gallettoni di diversa foggia ci sono sia i gallettoni piatti che i gallettoni un pochettino più in rilievo a seconda delle fotografie sta a voi scegliere quelli che preferite in più comunque se non mi ricordo male li ho messi entrambi dentro la confezione un volantone in in resina e nel kit originale c'era questa bozza perché la prima versione del mio modello l'avevo venduto senza il motore quindi aveva il fano aperto e davo la possibilità di farsi il motore però poi chiaramente mi ha detto fai anche il motore perché c'era quel discorso che non era esattamente il motore delle dino enthusiast di fujimi leggermente da modificare quindi ho fatto io successivamente il kit del motore e comunque dentro ci sono due scarichi extra inoltre trovate le dime le dime per i fari c'è un fogliettino molto semplice parliamo di kit artigianali e ragazzi quindi non venitemi a dire malattia mia dentro il modello della mcclaren in senna mi ha messo anche di mini campagna ecco no non è non è lo stesso discorso non è lo stesso modello volete fare la mcclaren senna fate come non fatemi fare noi ma tanti sanno di chi paro fate come certi personaggi che si sentono modellisti mitici e montano lamentandosi itamia di ultima generazione perché è perché è perché è una cosa estrema montare itamia di ultima generazione è grazie al cazzo e quindi niente c'è una piccola dima per farsi in alluminio io suggerivo di usare tipo qua lo potete vedere ci sono delle dime fatte con del lamierino di generoso lamierino di coca cola che ottimo si taglia la dima lo si lavora molto facilmente con delle spatoline o con dei tondini in legno gli si riesce a dare la curvatura desiderata essendo alluminio è facilissimo da lavorare provate a farlo è veramente una stupidata l'effetto è micidiale perché avete praticamente una lama che è più sottile di una foto incisione e quando sceglievo le ruote le ruote le ho dovuto fare io perché le ruote che erano mancanti nel mio kit originale poi il tizio mi diede come sostituzione quello brobio di rosso lo brobio rosso sono praticamente delle brutte copie fatte in resino qui li ho un po pulite li ho gli ho fatto i buchi vedete buchi passanti quelli li ho fatti io perché non erano così sono la brutta copia delle ruote che trovate nel dino competizione fatto da airfix quella a dino competizione quella che era l'esemplare unico di pini farina che ha comprato click and house negli stati uniti ne esiste una sola gialla di quel veicolo lì quindi quando le vedete fatte rosse quando la vedete fatta con le colorazioni inventate la macchina vera è una ed è soltanto gialla e ce n'è soltanto un in tutto il mondo però anche in quel kit lì dell'airfix le ruote sono orrende e in effetti lui altro non ha fatto che copiare quelle penso in buona fede perché il cerchione potrebbe essere passabile per quanto non è giusto nel senso che se lo vedete è simile ma a molti più incavi cerchio giusto del dino del dino montagna è un cerchio in acciaio stampato quindi non era un cerchio in magnesio come quelli del p4 un cerchio normale di acciaio stampato molto più semplice rispetto a quelli che erano fatti da campagnolo per per le ferrari quindi erano cerchi in acciaio stampato però il pneumatico non c'entra assolutamente una cippa vedete che un ribassato gudia c'entra la mazza c'entra la mazza e quindi niente dato che ho anche da fare il dino competizione avevo fatto anche a parte il set di ruote in resina per migliorare anche quel kit lì che comunque in giro credo lo abbia ereditato forse fujimi e forse non sono sicuro perché non ce l'ho e forse la fujimi nel suo kit ha messo le ruote corrette dovrebbe essere l'unica correzione importante da fare su un veicolo comunque particolare con il dino competizione quindi questo è quanto il modello adesso è stato rimesso in circolazione perché li avevo terminate mi hanno fatto un po di richieste anche qua purtroppo tocca ammettere soprattutto dall'estero voglio sperare perché gli appassionati italiani hanno già qualcosa hanno già tutto non per il fatto che essendo un kit in resina o fa un po paura oppure non piaccia al soggetto questo spero di no ecco spero di no perché secondo me questa è una delle più belle ferrari mai costruite già questa qua e la p4 secondo me sono parecchio più belle del gto e del 275 california che tanto va di moda per le asti americane queste sono macchine da corsa quindi lo spirito quello di delle vetturette piccole da salita back spider prototipi da montagna quelle macchine quindi sono dei razzi che pesavano niente avevano una marea di cavalli ed erano bellissime da vedere da sentire in movimento immagino anche di più da guidare erano guidate dagli eroi degli anni 60 questo è un dino del 67 quindi bandini scarfiotti quella gente lì e questo è tutto se siete interessati come solito contattatemi mandatemi una mail tramite il mio sito e vi posso comunicare prezzi disponibilità di quello che produco grazie alla prossima